Questo è il tortellino in crema di parmigiano reggiano. Al tortellino sono particolarmente legato perché ci sono cresciuto mangiandone. Ed è anche la prima cosa che voglio mangiare quando ritorno da un viaggio di piacere o di lavoro, indipendentemente dal periodo, agosto, novembre, maggio, perché per noi emiliani è sempre un buon momento per mangiare un tortellino. Questo tortellino l'abbiamo cotto in un brodo di cappone, scolato e messo direttamente in questa crema di parmigiano reggiano di 30 mesi di vacca bianca. Una crema realizzata solo con parmigiano e acqua, per avere appunto il sapore del parmigiano in purezza. E voi? Qual è il piatto a cui siete più affezionati? Per me è questo, ed è buonissimo.